Marion vedeva la vita in modo diverso, era una romantica, e credeva lo fosse anche lui. Non ho saputo resistere. Non resisterò nemmeno io. No, non sono ancora pronta per te. C'è della vodka nel freezer. Vuoi farmi ubriacare? Non ci metterò così tanto. Jack. Wow. Sei proprio una donna bellissima. Non si tratta solo di bellezza interiore, vero? Girati. Sei tutto ciò che desidero.